Allora il primo pezzo che vi presentiamo è un intro Allora il primo pezzo che vi presentiamo è un intro Allora il primo pezzo che vi presentiamo è un intro Allora il primo pezzo che vi presentiamo è un intro Allora il primo pezzo che vi presentiamo è un intro